La voce di Lorenzo Grazzi si fa sentire quando ancora il campionato non è terminato ma proprio per questo c'è più tempo per porre rimedio. Non trovo conferma in molti sponsor attuali per la prossima stagione e rischiamo un ridimensionamento tecnico. Parole dirette da parte del massimo dirigente azzurro che solo un mese fa invece aveva espresso la propria volontà di alzare addirittura l'asticella dell'obiettivo stagionale, confermando l'intenzione quando solo la scorsa settimana era stata anche abbassata la fideiussione richiesta per salire in Lega Pro da 600.000 a 350.000 euro. Ora trovo più di un muro nel cercare risorse per la prossima stagione tra chi vuole dimezzare la spesa e a chi vuole invece nemmeno rinnovare l'impegno. È insomma un richiamo all'ambiente imprenditoriale san Giovannese, non solo il rischio di vedere partenti molti dei big di quest'anno esiste, anche se ad oggi è assolutamente prematuro parlare di un sicuro ridimensionamento. Il tutto andrebbe a sconvolgere l'interagliatura che ad oggi vede la conferma multipla che passa dalla mediana con Mugelli e Buono all'attacco con Vezzi e regole. In teoria adesso tutti a rischio per l'ipotesi, qualora non fossero reperite risorse, di ricorrere ad una linea verdissima che offre però meno certezze dal punto di vista tecnico.